L'associazione Voice Care Music and Art, ospitata presso il B&B Villa Lago, nasce alcuni decenni fa con lo scopo di promuovere attività di alta formazione, finalizzate la crescita personale e creativa in un completo spirito di condivisione e amicizia. La semplicità e il calore di una casa unite all'alta professionalità dei docenti provenienti da tutto il mondo rendono l'esperienza formativa unica e ripetibile. La location B&B Villa Lago è una casa antica ed elegante, con un magnifico panorama sul lago di Santa Croce, e ciò contribuisce a rendere davvero unica l'esperienza proposta da Voice Care Music and Art. Vivere a stretto contatto con altre persone che condividono la stessa passione, dedicarsi totalmente ad essa e sentirsi parte di un gruppo con un unico obiettivo abbatte ogni pregiudizio e apre la strada al dialogo, al confronto, alla valutazione critica oggettiva dell'atto creativo. Essere artisti significa prendersi cura di se stessi, preparare mente, corpo e anima per trovare il giusto assetto d'equilibrio. Voice Care Music and Art punta su una condivisione completa dell'esperienza attraverso corsi residenziali. di questa parte. Andiamo nella parte più alta. Il riposo notturno, la colazione, i pasti, l'attività in aula con lezioni sia collettive che individuali personalizzate. L'immersione in una natura davvero superlativa, tra acqua, terra e cielo. Tanti momenti stimolanti scandiscono la giornata, conciliando impegno e leggerezza. Infatti, momenti formativi si alternano a quelli più conviviali e liberi, ai quali si aggiungono le performance aperte al pubblico, all'aperto e in teatro. La presenza di una sala prove con strumenti musicali a disposizione permette a piccoli gruppi di lavorare in modo autonomo, anche sulla produzione artistica propria. Il riposo notturno, all'aperto e in teatro. 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 L'associazione Voice Care Music and Art è consapevole che per formare l'artista sia necessario formare prima l'uomo. Per questo è ogni giorno alla ricerca di esperienze formative trasversali, originali e professionalizzanti, che sappiano cogliere e unire i valori della persona e dell'arte. Frequentare i corsi Voice Care Music and Art significa sentirsi parte di un gruppo, acquisire e sviluppare nuove competenze, mettersi in gioco in uno spirito collaborativo, dove ognuno è una risorsa per l'altro. Il riposo notturno, all'aperto e in teatro. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info